Oggi parliamo di storage e nello specifico andiamo a vedere il NAS, prodotto che secondo me tutti dovrebbero avere dalla piccola e media presa per i file importanti appunto della società al consumatore standard, quindi all'utente che vuole semplicemente fare backup fondamentale oppure salvare i propri ricordi come foto e video. Nello specifico vedremo il Synology DS718 Plus, prodotto già più avanzato che permette di fare davvero una miriade di cose se lo vedremo comunque nello specifico, Synology è leader come società nella produzione di questi prodotti sia lato hardware ma comunque il fiore all'occhiello è il software perché grazie a quello possiamo avere una miriade di funzionalità che si adattano appunto alle varie esigenze. Possiamo anche per fare un esempio andare a ospitare un intero sito internet direttamente all'interno del nostro supporto di storage, quindi in questo caso si tratta dei West End Digital Red ogni produttore ha la sua soluzione per i NAS che sono progettati per non essere mai spenti funzionare H24 7 giorni su 7 e quindi durare nel tempo semplicemente. Un NAS di regola è attivo sempre quindi ovunque ci troviamo nel mondo, in qualsiasi situazione, con una connessione a internet possiamo accedere ai nostri dati. Detto questo quindi andiamo a vederlo da vicino e poi soprattutto vedremo un focus sul lato software. Prima di iniziare vi ricordo come sempre di lasciare un like se la tematica vi interessa e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Per qualsiasi domanda come sempre vi lascio Instagram in descrizione oppure all'interno dei commenti. Possiamo partire! Questo modello nello specifico è un processore quad core, trascodifica 4K, doppia presa Ethernet e ovviamente è espandibile perché un NAS è scalabile di fatto. Se abbiamo bisogno di 4TB inseriamo due dischi da 2 o uno da 4, questo arriva fino a 32TB quindi man mano che avremo necessità di maggiore possibilità di storage, di immagazzinare dati potremo cambiare semplicemente i dischi all'interno e volendo possiamo anche aumentare la RAM e farla arrivare fino a 6GB. C'è uno slot libero. Rapido focus sulla confezione dove troviamo buona parte degli utilizzi possibili quindi condivisione dei file, accesso come vi ho detto ovunque nel mondo, possibilità di fare sincronizzazione cloud quindi anche con i servizi che abbiamo e inoltre gestire i file multimediali quindi creare un media center e volendo fare uno streaming anche sul proprio smartphone, su quello che c'è sul NAS oppure sulla propria TV. Dall'altro lato abbiamo il riferimento alle app mobile, possibilità di utilizzarlo per immagazzinare le registrazioni in un impianto di sicurezza, fare backup chiaramente e avere la sicurezza dei nostri dati che è possibile grazie al sistema proprietario di Synology. Andiamo dunque a vederlo da vicino, il NAS è molto compatto, come vediamo possiamo inserirlo dove vogliamo ve l'ho fatto vedere anche in un altro paio di clip. Nella parte posteriore c'è quello che riguarda la connettività con doppia porta Ethernet come vi ho fatto vedere, la presa per l'alimentazione e due porte USB 3.0 Possiamo collegare delle chiavette e degli harddisk esterni, quello che ci pare, per copiare interamente i file oppure spostarli come se fosse appunto un computer a sé stante. Porta esata e porta per il blocco. La possibilità di configurazione è estremamente semplice, infatti già stavo andando ad estrarre semplicemente abbiamo le guide, estraiamo l'hard disk che ci interessa e lo andiamo a inserire all'interno. Qui ho quello da 4TB, possiamo essere notificati dall'altro di quello che c'è all'interno con i LED nella parte frontale e l'altro, lo abbiamo visto su Instagram, è un peso massimo da 14TB che onestamente non so neanche come andare a riempire di un terzo neanche completamente. I dischi comunque sono in funzione da diverse settimane senza alcun tipo di problema come ho detto sono progettati appositamente e nella parte frontale abbiamo il pulsante di accensione qui sotto un'altra porta USB 3.0 e un pulsante per la copia. Esempio, inserisco una chiavetta qui, premo C e automaticamente tutto il contenuto della chiavetta verrà trasferito sulla memoria del NAS. A questo punto abbiamo visto più o meno tutto. L'ultima cosa che vi devo dire è che posso inserire SSD da 2,5 pollici, hard disk da 3,5 pollici e ovviamente anche hard disk mobile da 2,5 pollici. Detto questo dobbiamo passare a quello che riguarda il comparto software che è il vero fiorellacchiero, come ho detto prima, di questo tipo di prodotto. Eccoci dunque sul cuore pulsante del NAS, quindi l'ambito software che è ottimo, forse il migliore su piazza tra tutti quelli che ho provato che ci propone un sistema accessibile da browser, quindi anche dal nostro smartphone volendo, con delle icone e un menu che tra poco andremo a vedere. Abbiamo un esplorare risorse apposito e anche una guida. Un widget in basso a destra personalizzabile, ne posso inserire vari, qui ne ho messo uno che ci riporta il carico di lavoro che sostiene il nostro computer, perché alla fine un NAS è un piccolo computer, su cui andiamo a gestire la parte storage. Questo ha una CPU quad core, come vi ho detto, il 718+, ma anche quello iniziale, il 218+, ha comunque un'ottima scheda tecnica, quindi sul piano dell'utilizzo, al di là dell'utilizzo appunto in ambito professionale per una media impresa o una piccola impresa, non ci saranno particolari differenze. Ad ogni modo il sistema è comunque reattivo, risponde tranquillamente ad ogni singolo comando, quindi penso che abbiamo lo stesso tipo di esperienza anche sul 218+, perdiamo qualche funzionalità e la transcodifica in 4K. Qui sopra abbiamo alcune notifiche e alcuni pulsanti per richiamare rapidamente alcune funzionalità, tra cui il Cloud Sync, che di fatto è una delle parti portanti del prodotto appunto per la gestione cloud e la sincronizzazione. Qui posso andare a inserire degli account cloud, quindi ho inserito il Google Drive ad esempio, posso andare a inserire dall'Alibaba al Drive di Amazon, al Cloud Storage di Google, a OneDrive, a ovviamente Dropbox, eccolo qui, e abbiamo anche differenti tipi di interfacce web a cui andare a prendere i nostri file. Abbiamo anche SharePoint, quindi qualcosa che riguarda l'ambito professionale e anche lo sviluppo di software, quindi anche per le software house andiamo a vedere che ci sono degli applicativi appositi. Ad ogni modo seleziono il Cloud, posso creare una cartella relativa a quel Cloud sul mio Explorer Resources e andare a interagirci in modo sincronizzato come se fosse appunto salvato all'interno del NAS. Quindi sono stati scaricati tutti i file, se vado a modificare qualche file, spostarlo, eliminarlo, questo viene automaticamente aggiornato anche sul Cloud effettivo di Google, di cui ho le app sui miei dispositivi mobile ad esempio, o comunque che se cerce da browser, da drive.google.com. Posso scaricare dei torrent tramite il client apposito come vi ho fatto vedere, utile magari per chi non ha il computer sempre acceso o comunque vuole consumare davvero poco, perché questo prodotto consuma acceso tutto il mese senza mai fermarsi meno di 2€ di elettricità. Questo è un altro ambito che andremo ad approfondire in uno dei prossimi video, quello relativo ai consumi. Se è già uscito lo trovate nelle schede. Ad ogni modo abbiamo un sistema di notifiche, ci informa sulle ultime installazioni fatte, se ci sono stati problemi, quello che riguarda l'account, la personalizzazione e il riavvio e lo spegnimento del prodotto. Inoltre abbiamo la possibilità di fare la ricerca direttamente tramite alcune cartelle indicizzate che poi andremo a creare. E qui gestisco l'ambito dei widget, come vi ho fatto vedere ce ne sono vari. Per chi non ha molta dimestichezza ci sono delle guide, che adesso appunto andiamo a vedere, possibilità di gestire quello che riguarda le impostazioni del cloud e come vi ho detto, possibilità di i file cancellati localmente vengono recuperati dal cloud oppure vengono rimossi anche dal cloud, quindi per interfacciare al massimo quello che andiamo a fare. Possiamo pianificare il backup o comunque gestire una serie di cartelle che possono essere salvate e aggiornate automaticamente. Nella guida troviamo cose di questo tipo, quindi archiare i file sul NAS, proteggere magari tramite un antivirus, ci sono dei pacchetti appositi, oppure creare un proprio cloud, gestire le foto con l'applicativo Photo Station che appunto adesso andremo a vedere. Sul pannello di controllo, molto importante, abbiamo l'accesso completo a tutti gli utenti, possibilità di dare a più persone credenziali diverse e poter accedere a sezioni dedicate del NAS, ma l'importantissimo è Quick Connect. Quick Connect permette di accedere tramite un indirizzo davvero semplice ovunque ci troviamo nel mondo. Quando mi registro e creo la configurazione del mio NAS Synology, devo anche registrarmi al servizio appunto di Synology e devo inserire un nickname. Facciamo fin del mio nickname sia Michele. Nell'indirizzo quickconnect.com.michele potrò accedere automaticamente inserendo il nome e il password al mio NAS ovunque nel mondo, senza sapere l'indirizzo IP pubblico se ce l'ho e la porta di accesso al NAS. All'interno del menu troviamo tutti gli applicativi che abbiamo installato, quello che ci può servire, vanno comunque approfonditi uno ad uno, perché comunque sono completi, posso gestire la gestione delle risorse e capire bene il mio sistema se viene utilizzato, quanti utenti ci sono, impostare limiti di velocità, però ho il controllo completo e queste funzionalità ci servono soprattutto per l'accesso multiplo. E adesso ci arriviamo perché nel centro pacchetti abbiamo a disposizione una serie di app, programmi, comunque possibilità di installare nuove funzionalità semplicemente cliccando su installa. Abbiamo i backup su altri servizi cloud come può essere Office 365 o G Suite, antivirus dedicati, gestione centralizzata dell'intero sistema, ma ovviamente anche media server, quindi dal serverplex che serve per canzoni, foto e video, oppure a programmi dedicati come Moments che vi ho fatto vedere poco fa, oppure Audio Station, con la load station scarico i torrent e ho davvero la possibilità di inserire tutto, dal server mail addirittura a, come vi ho detto, roba multimediale relative a Photo Station, comunque i Moments sono applicativi che servono più o meno allo stesso utilizzo e ne troviamo vari. Possiamo anche gestire un server completo relativo al drive come se fosse un cloud o Video Station, per esempio, che è un applicativo che si trova anche su App Store e Play Store oppure direttamente sullo store delle smart TV, quindi se ho dei video salvati, dei film salvati, tramite questo applicativo inserisco l'indirizzo IP del mio NAS e posso accedere ai file direttamente tramite la mia rete Wi-Fi senza dover staccare i file e portarli da una parte all'altra. Ho applicativi di terze parti per lo sviluppo web non solo, da un server Apache, a differenti versioni di PHP, al PHP My Admin, a CMS come Drupal, Magento che serve per fare e-commerce, a Joomla o volendo anche WordPress. E adesso ci arriviamo perché oltre abbiamo anche Moodle che è una piattaforma per impostare dei sistemi e-learning, ma abbiamo Perl, per lo sviluppo, per chi è più pratico di programmazione sicuramente conosce questi software e anche la possibilità di installare un server Git, eccolo qui, o GitLab, quindi per la gestione magari in ambito di produzione software per una software house e centralizzare e salvare il locale i propri progetti, senza caricarli magari su servizi come può essere appunto quelli che si trovano in rete, per fare i push e i pull, però questo è più ambito programmazione. Inoltre comunque vi segnalo anche WordPress, dove semplicemente che faccio? Installo il CMS su una parte piccola dell'hard disk, ho magari un dominio già mio, posso utilizzare e ospitare l'intero sito internet sul mio NAS, però evitare di andare a acquistare un hosting dedicato, quindi se ho necessità di fare delle prove e di aspettare prima di lanciare il mio progetto online, posso utilizzare il NAS in pochi click, anche se non sono estremamente pratico. È veramente semplice e può fare davvero tutto. L'unico limite sono i software che possiamo trovare, magari ce ne sono anche altri in rete che possiamo installare in separata sede e avere la possibilità di scaricare torrent e di gestire l'ambito cloud in modo anche automatizzato. Io mi dilungherei davvero sulle potenzialità di un prodotto di questo tipo, ma mi soffermo sul mio case study, sul mio utilizzo. Quello WordPress sicuramente potrebbe essere ottimo, perché come sapete ho il sito techstart.it su cui trovate anche la recensione di questo prodotto, trovate il link in descrizione e a cosa mi potrebbe servire, per cosa potrei utilizzarlo. Avrei potuto utilizzarlo in precedenza appunto per fare le prove, prima installavo un server direttamente sul pc fisso, invece così posso farlo anche da remoto, dovunque mi trovo posso lavorare sul mio sito e magari metterlo anche direttamente online se ho le competenze necessarie, non è molto complicato e quindi magari gestire e vedere gli accessi al mio sito come vanno, direttamente sulle risorse, come se avessi un piccolo server dedicato al mio progetto, al mio sito. Inoltre, per quanto riguarda la possibilità di fare un backup totale, è utile a tutti, assolutamente, perché capita spessissimo, me lo chiedono un sacco di volte, di perdere hard disk da un giorno all'altro, che si rompono, che vanno ovviamente in stato di usura, ma questo può valere anche per gli smartphone, per la memoria degli smartphone, per delle micro SD. Quindi avere la possibilità di fare un backup automatico è sicuramente un grosso valore aggiunto per una spesa che si fa solo una volta e abbiamo il nostro cloud accessibile ovunque nel mondo, anche con una spesa piuttosto contenuta. Personalmente potrei avere a disposizione i progetti per montare video parlando di YouTube o dei file che mi servono magari, che utilizzo spesso e che aggiorno, secondo quelle che sono le mie necessità. Può fare davvero la differenza anche in ambito economico e lavorativo, quindi è un prodotto che secondo me, per la maggior parte dei casi, dovrebbe essere adottato. Voi fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, come sempre sotto al video, oppure su Instagram vi lascio il link in descrizione, lasciate un like e iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto. A me come sempre non resta che salutarvi, vi ho detto che sul sito trovate in descrizione c'è il link, la recensione è completa e anche scritta con dei dettagli in più. Un saluto a tutti e al prossimo video.